Buongiorno a tutti, sono Luisa e vi do il benvenuto sul mio nuovo canale. Vi accompagnerò nel mondo incantato dei racconti di Paolo, pediatra 92enne e mio padre. Cominceremo questo viaggio conoscendo le storie che Paolo scrisse ed illustrò negli anni 60, per noi tre figli a quei tempi ancora bambine. Protagoniste di queste avventure saremo proprio noi tre sorelle, Luisa, Giovanna e Marta, accompagnate da una schiera di personaggi davvero molto particolari. Ma vi presento subito il primo racconto, la storia del lupo nudo, con Luisa, detta Gimpo, strano soprannome, Giovanna, detta Giro Poo, perché fin da piccola amava dormire proprio come un Giro, il Mago Galafrone, la Maga Malefica, i loro due gemelli, Ticco e Tappo e ovviamente il lupo nudo. Bene, se siete pronti possiamo cominciare. Storia della Luisa e della Giovanna Giro Poo e del lupo nudo. C'era una volta una Giovanna Giro Poo che mangiava le uve. È possibile forse pensare al singolare, un frutto con tanti acini? Senti, Luisa, disse ad un tratto a sua sorella, che sedeva molto composta su una poltrona. Perché non facciamo una bella casina nel bosco? La Luisa rimase un po' in silenzio rigirando l'idea per tutti gli angoli della testa. Poi rispose, una casina nel bosco? Sì, mi piacerebbe. Tutta di legno, col tetto rosso. Ma come facciamo andare nel bosco? La Giovanna rimase un po' pensierosa succhiando un acino d'uva. Poi disse, vendiamo due tavalli. Due cavalli? Borbottò la Luisa. Se tutto il difficile è qua, la casa nel bosco è già fatta. Basta telefonare al marito della fata malefica, il vice mago Galafrone. È impiegato a San Siro. Ci ho detto, prese il telefono. Quello vero. Mi fece a memoria un numero di 22 cifre. 47626496426212236001. Mamma mia, che numero lungo. Pronto, rispose subito Galafrone in persona. Indossava una magnifica camicia a stelle da vice mago. Pronto, qui è la Luisa Gimpo. Ciao Galagala. Vorrei un cavallo per me e uno per il giro. Di che colore? Per me marrone con una stella bianca in fronte. E per il giro? Ok, adesso glielo chiedo. Giovanna, di che colore lo vuoi il cavallo? La Giovanna baggiò un altro acino d'uva per pensare meglio. E poi rispose. Voglio un tavallo, vende. Ha detto che lo vuole verde, ricominciò la Luisa al telefono. Dall'altra parte si dì un lunghissimo silenzio. Beh, non ti senti vese, disse ancora la Luisa, un po' preoccupata. Dall'altra parte si udì una specie di grugnito e poi una voce. Dunque, ne avrei uno bianco e blu. Giovanna, ti va bene bianco e blu? La Giovanna di lo prese il bocco un altro acino d'uva per pensare meglio. E dopo un po' rispose. Sì, può andare bene. E poi tappo, famosi perché avevano tanti capelli, arrivarono la mattina dopo con due cavalli. Ma la portinaia non li fece salire per timore che sporcassero le scale. Così, la Luisa e la Giovanna scesero incontro ai loro amici e si abbracciarono con entusiasmo. Anche i bellissimi cavalli ebbero la loro parte di carezze dalle due bimbe. Erano così veloci i cavallini che le due sorelline, prima di avere il tempo di dire bah, erano già nel cuore di una fitta foresta, ai confini del mondo. Vi erano alberi immensi, verdi radure e ruscelli di acqua limpidissima. Ovunque, tanti uccellini cantavano canzoncine meravigliose. E la casina? Ecco tra due alberi quello che ci voleva. Un grosso scatolone, uguale a quello che era servito al papà Fraciscio, paese di montagna, dove erano soliti passare le vacanze, a costruire una deliziosa abitazione per la Luisa e la Giovanna. Le bimbe, aiutate dai bravi cavallini, si misero subito al lavoro e sistemarono lo scatolone sul bel praticello. Quindi, tagliarono porte e finestre, proprio come aveva insegnato loro il papà. La casina fu presto finita ed era proprio bella. Quando la casina fu finita, tutti gli animali del bosco vennero a far visita di cortesia alla Luisa e alla Giovanna. Quando la casina fu finita, tutti gli animali del bosco vennero a far visita di cortesia alla Luisa e alla Giovanna. Toc toc! Chi è? È la volpe il de Garda! Buongiorno signora! Si accomodi! Toc toc! Chi è? È la lepre Felicina! Buongiorno signora! Si accomodi! Toc toc! Chi è? È la natrone Piercarlo! Buongiorno signore! Si accomodi! Ma una volta si udì picchiare più forte. Toc toc! E chi sarà mai? Chiese preoccupata la Luisa. E' un lupo col paletò? Rispose la Giovanna che era andata a sfilciare dalla finestra. Ha anche i talzoni e le cappe. Era vero. Si trattava del povero lupo Jonathan. Aveva mangiato le belle galline della terribile fata malefica. E la fata per punizione gli aveva fatto perdere sia il pelo che il vizio. Così il disgraziato animale doveva indossare il paletò e poteva mangiare solo cornetti al burro e cavolini di Bruxelles. Povero lupo! Senza neppure un pelo con l'inverno alle porte! La Luisa e la Giovanna furono molto impressionate dal triste destino di Jonathan e decisero di aiutarlo. Così dopo aver fatto accomodare in casa il lupo saltarono sui loro veloci cavallini per andare dalla loro amica malefica che viveva in cima alla montagna in un antico castello. In un attimo arrivarono alla loro meta e bussarono al grande portone. La malefica era nel suo laboratorio in compagnia di Tipo. Tappo era sul vaso con un libro da leggere. Chi sarà mai che bussa alla porta? Brontolò Tipo vai ad aprire e il bravo bimbo andò di corsa. Immaginarsi la gioia di Tipo e di Tappo subito a corso come poteva a ritrovare così presto le loro grandi amiche. Anche la Luisa e la Giovanna furono così contente di vedere Tipo e Tappo che avrebbero subito dimenticato la ragione della loro visita per mettersi a giocare se la malefica in persona non fosse comparsa in cima alle scale. Oh la Luisa e la Giovanna che gradita visita disse subito la fata che aveva un pessimo carattere per tutti ma non certo per le due bimbe. Ciao malefica disse allora la Luisa siamo qui per chiederti un grosso piacere e cioè chiese la fata dovresti perdonare un lupo la malefica lanciò un lampo di fuoco dai suoi grandi occhi neri Jonathan naturalmente vecchio stupido mangiare le mie belle galline ma è pentito poveretto e ha tanto freddo senza pelo gli occhi della malefica fecero ancora una bella serie di lampi e si sentirono anche due piccoli tuoni ma inaspettatamente si mise a ridere va bene vada per il pelo ma la carne non potrà mangiarla ancora per due anni pena il mal di pancia malefica sei un tesoro disse con entusiasmo alla Luisa tesoro è un po' troppo borbottò la malefica un po' confusa ma contenta su prendete in dispensa un vasetto di unguento venafrone e andate svelte a fare la cura a Jonathan grazie dissero in coro il gimpo e il liro e dopo poco erano di ritorno nel bosco le istruzioni accluse spiegavano che l'unguento venafrone andava allungato con l'acqua e così la Luisa preparò un bel bagno per Jonathan bene cari amici per oggi mi fermo qui se questo racconto vi piace non dimenticate di iscrivervi al mio canale e di mettere un bel like magari attivate anche la campanella per essere avvisati quando caricherò il prossimo video riuscirà il povero lupo a recuperare il pelo e ad affrontare così un inverno al caldo per saperlo se vorrete continuate a seguirmi a presto a presto a presto a presto a presto